Ciao, eccoci in un nuovo video di Vaporetto Italiano. Oggi parliamo di un argomento che sembra facile, ma in realtà non è sempre facile. Oggi ci focalizziamo sul verbo andare, to go. Perché ho scelto il verbo andare? Ho scelto di fare un video sul verbo andare perché ho notato che questo verbo crea delle difficoltà agli studenti di italiano. Molti dei miei studenti faticano, hanno difficoltà ad utilizzare questo verbo. La cosa non mi stupisce molto perché andare è un verbo irregolare, quindi soprattutto nel presente indicativo la coniugazione del verbo cambia completamente. Quindi alcuni miei studenti imparano a parlare italiano, sono anche fluenti, ma a volte, quando incontrano il verbo andare, si congelano. Quindi in questo video spiegheremo esattamente come utilizzare il verbo andare. Cominceremo con la coniugazione del verbo andare al presente indicativo con alcuni esempi e poi ci concentriamo su un altro aspetto importante. Si dice andare in o andare a. In questo video scopriremo quando usare la preposizione in e quando usare la preposizione a con il verbo andare. Ma cominciamo con il primo punto. Il primo punto è la coniugazione del verbo andare al presente indicativo. Quindi abbiamo l'infinito andare, to go, e la coniugazione è Oggi io vado al mare Tu vai Domani tu vai al supermercato Lui o lei va Matteo va In palestra tutti i giorni Noi andiamo Quest'estate noi andiamo tutti a Parigi Voi andate Andate a prendere una pizza per cena Loro vanno Loro vanno in palestra tutti insieme Ok? Questa è la coniugazione del verbo andare al presente indicativo Io vado Tu vai Lei o lui va Noi andiamo Voi andate Loro vanno Ma negli esempi che abbiamo fatto prima Che adesso vi mostro ancora Vedete che abbiamo utilizzato delle preposizioni diverse Loro vanno in palestra Io vado al mare Voi andate a prendere una pizza Quindi quando si usa la preposizione a e quando la preposizione in dopo il verbo andare Vediamo insieme quando utilizzare queste preposizioni Usiamo la preposizione a con i nomi di città Domani vado a Milano Andiamo a Parigi Si usa la preposizione a quando il verbo andare è seguito da un verbo Oggi vado a fare shopping Andiamo a mangiare una pizza? Quindi quando il verbo andare è seguito da un nome di città o da un verbo La preposizione è a La preposizione in si usa prima dei continenti I miei fratelli vanno in Africa Perché non andiamo in Asia? Si usa in prima dei nomi di nazione Vorrei andare in Norvegia un giorno Non sono mai andato in Argentina E con i mezzi di trasporto Vado in Francia in macchina Oggi vado in moto Ok, ma forse vi state chiedendo E prima degli altri luoghi? Abbiamo visto le città, le nazioni, i continenti, i mezzi di trasporto Ma negli altri luoghi? Per esempio il museo, la scuola, la piscina Quale preposizione uso? Bene, in questo caso non c'è una regola precisa Per alcuni luoghi si usa la preposizione a E per altri luoghi si usa la preposizione in Purtroppo bisogna impararli a memoria Ma in questo video ti presento i luoghi più utilizzati nella lingua italiana E ti insegnerò se vanno usati con la preposizione a O con la preposizione in Continuiamo Si usa la preposizione a Con questi luoghi A scuola Per esempio Oggi non vado a scuola A teatro Questa sera andiamo a teatro Scuola e teatro utilizzano la preposizione semplice a In altri casi, invece, la preposizione è abbinata all'articolo Per formare la preposizione articolata Per esempio Al è la preposizione articolata formata da A più il Perché cinema è maschile singolare Il cinema Alla è composto da A più la Che è l'articolo femminile singolare di stazione La stazione All'aeroporto In questo caso La preposizione articolata è formata da A più l apostrofo Farò ovviamente un video Sugli articoli e sulle preposizioni articolate Comunque, si usa la preposizione a Con questi luoghi Scuola, teatro, cinema, bar, mare, ristorante, stazione e aeroporto Si usa IN con questi luoghi, invece In genere, con tutti i nomi che finiscono IN-IA Si utilizza la preposizione IN Continuiamo A queste si aggiungono le stanze della casa Per esempio Io vado in bagno Io vado in camera In cucina In soggiorno O in mansarda Ok, questi sono tutti i luoghi Con cui si utilizza la preposizione IN Dopo il verbo andare So che sembra complicato Ma in realtà non lo è Il mio consiglio è di non passare troppo tempo A memorizzare tutte le parole che vanno con A E tutte le parole che vanno con IN Perché poi tendete a dimenticare Il mio consiglio è provare a creare delle frasi Per praticare le preposizioni Quindi Coniugare il verbo andare E poi aggiungere la preposizione A o IN In base al luogo che scegliete Per esempio Durante il giorno potete dire Adesso vado in banca Oppure La settimana prossima vado al mare Provate a costruire delle frasi Per memorizzare e praticare il verbo andare E le preposizioni Questo è l'unico modo per ricordarsi Quando utilizzare A e IN E come coniugare bene il verbo andare Al presente indicativo Ok? Come sempre potete scrivere delle frasi Nei commenti qui sotto Per praticare quello che abbiamo detto oggi Ok? Noi ci vediamo prestissimo Grazie per essere stati qui A presto